Mi sento ancora un po' tunisina, lo ha detto Claudia Cardinale, domenica alla cerimonia con cui l'estate intitolata una strada alla Goulet, cittadina portuale alla periferia di Tunisi, sottolineando l'attaccamento alla sua terra natale, il cui senso dell'ospitalità è, secondo l'attrice, un modello per l'accoglienza di migranti in occidente. Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia, ha detto Cardinale, 84 anni. Visibilmente emozionata, ha ballato su melodie suonate da un'orchestra tradizionale, poi ha ricevuto molteplici doni, tra cui vari ritratti di pittori locali. Un murale con un suo ritratto gigante è stato svelato poco prima dell'inaugurazione della via a suo nome. Amiamo moltissimo Claudia e lei ama la Tunisia, sta tornando a casa, volevamo dedicarle una strada che porterà il suo nome per l'eternità, ha detto la sindaca di La Goulet, Amel Limam. Cardinale si è detta molto grata al municipio e all'associazione La Piccola Sicilia, coorganizzatrice della cerimonia. Al momento dell'indipendenza nel 1956, la comunità italiana, inclusi molti emigrati arrivati prima del protettorato francese, iniziato nel 1881, contava più di 130.000 membri. È un passato importante. La Tunisia dei miei genitori, dei miei nonni, è stata una Tunisia straordinaria.